musica 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 no cattoglie non basta tagliamo anche questo tagliamo Sì, dai, dai che ci siamo, faccio quest'ultimo taglio, porca puttana, porca, porca tuaglia, non basta, che te lo posso tagliare. Gli uomini politici si dividono in due specie, gli uomini e gli altri. Credo che quello che sta succedendo sui posti di lavoro sia anche il prodotto di una follia che si è chiamata globalizzazione. È cambiato il mondo, deve cambiare il governo del mondo. Adesso la ricchezza sta divorando le nazioni e alla fine divorerà se stessa. Così non può durare e se continua così chi paga non è la finanza, sono i popoli. Noi abbiamo una moneta senza gli stati e gli stati senza moneta. Questo è il mondo che noi dobbiamo capire secondo me per cambiare. Chi vi parla, per quel che conta, ha avuto anche delle piccole polemiche con l'ex ministro Tremonti, col professor Tremonti. Il sottoscritto è uno di quelli che forse il professor Tremonti definirebbe il mercatista, ma il sottoscritto è anche uno di quelli che ha letto nell'86 e poi nel 91 i libri importanti, secondo il sottoscritto del professor Tremonti. Quel professor Tremonti che ci raccontava primo tra tutti le 100 tasse degli italiani, che ci spiegava primo tra tutti non solo la quantità delle imposte in Italia, ma la loro difficoltà nell'essere esatte e nell'essere pagate. Quel professor Tremonti che scrisse lo stato criminogeno, il professor Tremonti che pensò per primo e per quello lo si è attribuito vicino alla Lega, all'idea di uno stato federale in cui si paga e si vota con i piedi. Sostanzialmente quel professor Tremonti che alcuni di noi riconobbero come un ispiratore della lotta all'eccesso fiscale. Poi il professor Tremonti ha fatto il ministro dell'economia di alcuni governi Berlusconi, ha fatto tante altre cose ovviamente e il professor Tremonti è stato anche da noi mercatisti un po' criticato per le sue posizioni non più così liberiste. Forse aveva ragione con il senno di poi, questo non lo sappiamo, però una cosa fondamentale bisogna dire della gestione tremontiana del ministero dell'economia e cioè che per la prima volta da decenni, da decenni, la spesa pubblica italiana con la gestione Tremonti non è aumentata in termini assoluti e nonostante la polemica politica che oggi si fa, molte delle manovre fatte da questo governo entrano o comunque sono sulla scia di un certo tremontismo di via 20 settembre. Probabilmente lui questa sera criticherà questa eredità, nel senso che dirà che è diverso rispetto al tremontismo da lui impostato, però la cosa interessante è che col professor Tremonti questa sera parleremo di economia, di finanza e del suo nuovo movimento e dell'impostazione che vorrà dare a quella che può essere la politica economica del prossimo decennio. Buonasera da Nicola Porro. Come capita per tutti i grandi personaggi politici, l'imitazione è un certificato di notorietà e quindi la copertina di oggi si è aperta con quell'immagine che tutti ricordano del Tremonti imitato da Guzzanti che è stato poi uno dei modi in cui è entrato ed è stato simpatizzato, reso affascinante per il pubblico il personaggio burbero che Giulio Tremonti ha rappresentato nella storia di questo paese. Io faccio parte di quegli italiani che hanno considerato il governo Berlusconi l'anticamera dei disastri che stiamo vivendo oggi per mille motivi e allo stesso modo sono intrigato, affascinato dalle due anime che sono vissute dentro questo governo. Tremonti ci ha raccontato che ha avuto un grande conflitto con Berlusconi che ha combattuto le sue ultime scelte in politica economica e i libri che sta scrivendo adesso, non quelli dieci anni fa, sono lo sviluppo di un ragionamento estremo che sta arrivando al suo compimento. Il ragionamento di Tremonti è siamo in una guerra, una guerra che è stata imposta dal mercatismo, una guerra che è stata dettata all'Europa, ai suoi governi e anche ai suoi popoli che la stanno subendo da una assoluta e assolutamente incomprensibile predominanza della finanza, delle sue leggi che stanno divorando tutto. Ecco perché io stasera non farò il giochino e dire sono il giornalista di sinistra che rimprovero a Tremonti di aver fatto parte di un governo di destra. Oggi mi interessa discutere con lui e con voi se veramente lo scenario che lui denuncia, se veramente l'attacco durissimo che fa i tecnici è qualcosa che ci può servire. Cioè se davvero possiamo uscire dalla crisi europea in un altro modo che non sia tagli e tasse. Buonasera da Luca Telesi. Eccoci qua caro Luca. Insomma come al solito io ho avuto molto coraggio perché Tremonti non piace, non è amato da molti elettori di sinistra, invece tu sei sempre stato ambiguo, volevi dire una cosa mi piace, una no, anche se non so, tu sei un liberista, con Tremonti non c'entri niente. Quindi litigate. Però mi sono attaccato alle sue 100 tasse, quello era un libro favoloso, rileggitelo, lui e Vitaletti, due primi libri, 86 e 91, ma adesso basta con lo spot verso i vecchi libri del professor Tremonti e presentiamolo. Professore c'è o è scappato? No, sono qua, grazie. Quanto ha sofferto per l'imitazione di Guzzanti? Ci dica un retroscena. Ma all'inizio mi era un po', come dire, incavolato, poi ho capito che era una cosa simpatica e da allora ci campo di vendita. Senta professore, io ricordavo i due libri non a caso, poi era un artificio retorico, però voglio chiederle una cosa che alcuni di noi si chiedono avendo letto con attenzione quei libri. Esiste un Tremonti in una certa fase e un Tremonti in un post-Tremonti? Oppure è il filo logico di un pensiero che nasce nell'86? Ma sinceramente e onestamente, visto che questa è una trasmissione nella quale puoi parlare in modo abbastanza pacato, io credo che ci sia, sento un filo continuo. Dalla metà degli anni Ottanta, nel 92 con altri autori, ho scritto un libro intitolato Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, venti anni fa cercando di indicare come sarebbe cambiato il mondo con la globalizzazione, è cambiato, vi dice niente, Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, poi ho scritto Il fantasma della povertà, Rischi fatali, tanti altri libri che per me sono anelli di una stessa catena di riflessione sulla globalizzazione. Quindi, diciamo, dal lato dei libri, dal lato del pensiero, credo di avere una certa continuità. Dal lato dell'azione politica, la domanda che qualche volta mi si fa, ma tu dove eri negli anni della crisi? Io rispondo in due modi. I documenti ufficiali del Tesoro italiano presentati nelle sedi internazionali con la richiesta di regole, di fondi, con gli avvertimenti, ha un conto essere, in tanti incontro essere da solo. Ricordate, io polemizzavo, si diceva in Italia, sullo Stability, Financial Stability Board. In realtà, l'avete vista la Financial Stability? Per me era il cavallo di Troia messo dentro il palazzo dei governi per salvare la finanza e comprare tempo. Da soli è difficile. È difficile da soli. Non è arroganza, ma lo stesso problema l'ha vissuto, lo vive il Presidente degli Stati Uniti. Eletto WeChange ammette che è stato molto difficile cambiare contro una macchina di potere, la macchina della finanza, la superpotenza della finanza, che ha bloccato moltissimi dei miei atti e ammetterà che il potere del Presidente degli Stati Uniti è maggiore di quello di un ministro. Senta, io tendo anche a semplificare e non rendere grezze domande che ovviamente hanno un substrato, spero, un po' più profondo. Le chiedo oggi, rileggendo i suoi testi, ma è poco importante il testo, ma rileggendo il suo pensiero, si pensava che negli anni Ottanta il nemico fosse lo Stato con troppe tasse, troppa burocrazia e questo in una certa misura lei lo ha discusso e lo ha portato avanti per anni. Il secondo Tremonti sembra che abbia un altro nemico, mi perdoni la semplificazione, che è la finanza internazionale, la globalizzazione. Sono due nemici che combattono insieme o abbiamo sbagliato a pensare che lo Stato con le sue leggi e con le sue norme fosse il nostro nemico per tanto tempo? Ma intanto i nemici non sono mai abbastanza. Il fatto è che è cambiato totalmente il mondo dagli anni Ottanta al 2012, l'anno del signore in cui viviamo. Negli anni Ottanta c'era ancora lo Stato-Nazione, la macchina politica assoluta, per due secoli lo Stato-Nazione, lo Stato controllava il territorio, controllando il territorio aveva il monopolio della ricchezza, agraria, mineraria, industriale, avendo il monopolio della ricchezza poteva riscuotere le tasse, magari troppe, battere la moneta, magari male, esercitare la giustizia. Quel mondo è finito, quel mondo con la globalizzazione è finito, quel mondo in Europa è finito due volte, perché gli Stati contano, e spero sempre meno, dell'Europa. E l'Europa è, come dire, una parte di un mondo che si è unito. Allora c'era la lira negli anni Ottanta, adesso c'è un'altra moneta. Voglio dire, c'è stato un salto nella storia. La storia non è mai cambiata, secondo me, in modo così intenso, in un tempo così breve, ma esplosa in 20 anni, mai nella storia dell'umanità un cambiamento così forte. E lo vede sugli Stati, lo vede sulla politica, su tante cose. Cosa, secondo me, vive e può vivere ancora della critica allo Stato fatta negli anni Ottanta? Vede gli Stati, e lo vediamo in quest'anno, gli Stati possono fare poco di bene per l'economia, ma possono fare molto male. e il male facendo troppe leggi e mettendo troppe tasse. Prenda quest'anno di governo, se lei prende la gazzetta ufficiale, mette i fogli uno a fianco all'altro, lei in un anno vede che sono stati fatti 40 campi da calcio di nuove regole. Questo non è il diritto, è il rovescio, non si capisce più niente. Questa è una delle forme per quello Stato che magari vuole fare bene. Fa male, perché crea burocrazia in più. E le tasse sono state troppe e il modo di applicarle ha creato paura. Ecco perché io credo che ancora conta cosa fanno gli Stati. Possono fare bene e male. Qualche volta fanno fin troppo male. Le faccio una domanda molto personale. È un po' pentito di aver armato e reso così efficiente il suo braccio dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia? Ovviamente è paradossale la domanda, ma lei capisce dove voglio arrivare. No, guardi, l'Agenzia delle Entrate fu una idea, una legge del Ministro Visco. Io votai contro, però mi sono reso conto che era una buona legge. lo stesso per la riscossione. Prima per 100 lire, per 100 euro messi a ruolo lo Stato ne risproteva 5. Vuol dire che se il creditore non crede, figurarsi il debitore se crede al rapporto fiscale. Quello che è successo è stato l'incrocio tra la super efficienza di queste macchine e la crisi economica che è arrivata e ha fatto passare il pendolo dall'eccesso all'eccesso opposto. Credo che un equilibrio diverso, migliore si debba trovare. Senta, i suoi libri hanno sempre avuto anche un successo perché erano capaci di dare un'immagine divulgativa di immediata comprensione alla gente. Allora io le chiedo, lei sta combattendo una forte battaglia delle idee contro questo governo dicendo che lo spread è su valori preoccupanti, che il deficit è aumentato in maniera pericolosa, che siamo sulla via della cura greca. Lei sta dicendo, queste cose le conferma perché riceviamo tanti messaggi e la televisione ci dice no, stiamo recuperando, i conti stanno andando bene. Invece lei conferma quello che dice nel manifesto cioè che siamo di fronte a uno scenario drammatico? Guardi, intanto niente di personale. I rapporti che ho con tanti membri del governo anche con il Presidente del Consiglio sono personalmente penso spero buoni. Questo non mi impedisce di dire che è il governo sbagliato che fa cose sbagliate ed è la ragione per cui io non ho mai votato i decreti del governo. Cerco di spiegarmi. La linea del rigore va mantenuta. Non è che entri di colpo nel paese di Bengodi. Quello che doveva essere fatto è stato fatto, deve essere mantenuto. L'Europa in generale non solo l'Italia non può vivere producendo più deficit che prodotto interno lordo perché è finita l'età delle colonie e la crisi ce lo indica. non possiamo più piazzare i nostri prodotti i nostri titoli quando vogliamo dove vogliamo e questa è la linea che mi sembra giusta. Tuttavia non condivido quello che come dire non mi sembra giusto buono il bilancio che abbiamo. questo governo è andato su perché doveva darci più crescita economica più stabilità finanziaria e più normalità politica. La crescita economica la crisi già era in atto ma è stata aggravata da questo governo che ha messo a seguito della nostra azione di distruzione creatrice molti dati sono peggiorati. Io penso che non fosse necessario peggiorarli perché troppe tasse e troppa paura buttano giù il clima del paese. Una volta si falliva per debiti adesso si fallisce per crediti perché la gente ha paura. Nel dopoguerra non c'erano i soldi ma c'era la vita adesso tutta l'Italia è annichilita da un messaggio negativo e devo dire pesantemente negativo. Però vado sul pratico ex ministro scusi ed è la seguente cosa quando lei era ministro ha impostato una manovra in quell'estate tra l'altro non è tutta farina del suo sacco perché fu una estate quella del 2011 mi sembra in cui diverse mani si misero a fare i progetti di cambiamento delle manovre in cui si impostava un aumento dell'IVA le faccio un esempio molto concreto di due punti percentuali a giugno-luglio del 2013 questo governo ha aumentato sì l'IVA nel giugno-luglio del 2013 ma di un solo punto quindi l'obiezione che vengo a muoverle e voglio capire in realtà quella è eredità del governo Berlusconi-Tremonti o lei al governo oggi avrebbe fatto qualcosa di diverso rispetto a Monti posto che quella fu una legge fatta da voi sono stato un po' contorto ma spero di essere stato chiaro grazie perché è un punto importante io mi riconosco nell'azione fatta dal governo nei tre lunghi anni di crisi che vanno dal maggio del 2008 al maggio del 2011 con il consenso di tutti con il supporto di Palazzo Chigi nel Parlamento ma non voglio dire che i treni andavano in orario ma l'Italia ha avuto una buona conduzione di politica e tutti lo riconoscevano anche da parti estere non sospettabili di partigianeria voglio dire non abbiamo avuto un giorno di sciopero generale coesione sociale il deficit scendeva il debito saliva molto meno che in altri paesi abbiamo messo tutto quello che avevamo sugli ammortizzatori abbiamo fatto quella che era considerata la migliore riforma delle pensioni d'Europa e poi la riforma dell'università della scuola poi discutere ma fondamentalmente lo spread per tre lunghi anni di crisi è stato 113 enormemente meno di adesso poi si confrontano due linee io lo dico e lo scrivo con assoluta come dire chiarezza la linea del tesoro era continuiamo come prima continuiamo con la prudenza perché inizia la guerra tra gli stati sui debiti pubblici la crisi fa alzare i debiti e tutto vogliono piazzare i loro titoli e perché l'Europa sta entrando in una crisi gravissima gliel'ho detto ai signori di Palazzo Chigi in inglese Vula e Schiva e Sass cioè cerchiamo di continuare con la prudenza passò la linea opposta e cioè dire ci vuole ricordate c'era un signore che diceva ci vuole coraggio e non prudenza volevano posticipare il pareggio la lettera alla Banca d'Italia non l'ho mica chiesta io qualcuno l'ha chiesta ma io no l'ha chiesta a Palazzo Chigi appunto io a Palazzo Chigi l'ho letta quella lettera ma le pare normale che dentro un governo il Ministro del Tesoro non conosce la lettera che poi noti che in difficoltà in quel periodo erano la Spagna e l'Italia e i titoli furono comprati dalla Banca Centrale Europea la Banca d'Italia sia quelli spagnoli che quelli italiani guarda caso l'accanimento è sull'Italia chiedono di anticipare di un anno il pareggio di bilancio in una situazione di crisi stringere anticipando il pareggio non è fare il bene dell'Italia ma fare il male come adesso tutti ammettono e poi e poi e poi io francamente sulla parte che va da agosto in poi come dire non la riconosce un giorno un giorno dirò perché non mi sono dimesso ma certamente non stavo lì perché mi faceva piacere fare il Ministro e credo di avere contenuto molto i danni le voglio chiedere veniamo veniamo all'IVA allora in autunno la posizione del governo italiano era dobbiamo fare le due deleghe quella fiscale e quella assistenziale quella fiscale il riordino delle agevolazioni per ridurre le aliquote e quella assistenziale fare ordine in un caos assoluto per cui questo stato sociale dà molto a chi non ne ha bisogno e poco a chi ha bisogno si era anche detto se non riusciremo a fare la riforma fiscale e assistenziale allora aumenteranno le imposte indirette ma l'obiettivo era di fare la riforma tanto che c'erano vastissimi studi per la prima volta addirittura degli studi ed erano fatti da persone molto valide che adesso fanno parte del governo e conoscono la materia quando arriva il professor Monti nel novembre del 2011 è dominus della situazione con il prestigio e il potere che ha può decidere se fare quelle due riforme oppure cancellarle credo che abbia deciso di non farle e di andare avanti con l'aumento dell'imposto ma aveva il tempo professore per farle? assolutamente sì perché c'erano già i testi in Parlamento e con la forza che aveva che ha il governo in Parlamento le deleghe passavano in poco tempo quindi lei non avrebbe fatto di tutto per non attuare per non utilizzare quella clausola di salvaguarda che vi eravate tenuti dai due punti di IVA in più guardi che intanto lo devo vedere perché mi pare che l'obiettivo fosse quantitativo raggiungibile con aumenti di imposte indirette e accise non era dispositivo diretto se non ricordo male ma a parte quello chi ormai è passato un anno chi aumenta l'IVA chi fa le robe e cavolo e chi è il governo adesso da un anno e oltretutto torno a dire io al professor Monti al presidente Monti nel passaggio delle consegne spiegai che per me quella delle deleghe fiscale e assistenziale approvate in Europa era la via principale che abbandonare era un errore è un errore una curiosità però un'ulteriore curiosità in realtà la struttura il ministro dell'economia il capo dell'agenzia delle entrate è tutta una struttura tremontiana sono tutti uomini che hanno lavorato con lei mi corregga se sbaglio come mai c'è stato questo cambiamento di prospettiva ma guardi il ministro Grilli era un suo voglio dire un suo dirigente importante insomma non è che viene dal nulla il ministro Grilli è una personalità tecnica e scientifica di assoluto rilievo e indipendenza e lo stesso vale per tutti quelli che hanno lavorato credo con grande impegno e onore negli anni passati e lo fanno ancora adesso le decisioni politiche dipendono dal ministro e dal governo quindi se non senta una sua proposta in questo manifesto è sicuramente una proposta impegnativa cioè è l'idea di ricomprare tutta la parte estera del nostro debito pubblico si parla di 800 miliardi miliardi di euro come può funzionare e che effetto avrebbe sulla nostra debito intanto non tutta l'idea che mi sono fatto in questi mesi ne sono profondamente convinto è questa l'Italia ha sempre avuto un grandissimo debito pubblico rispettato e onorato per decenni e decenni l'attacco all'Italia sul debito avviene tra giugno e luglio quando dall'Italia vengono trasmessi messaggi opposti e ho cercato di dirlo i mercati non si fidano e inizia la guerra sul debito italiano non è finita con l'insediamento del governo nuovo se ci fa caso lo spedere ancora a 500 col nuovo governo e dopo il salva Italia è sceso con i soldi dell'ABC è risalito adesso è un po' sceso per gli annunci dell'ABC e non ho l'impressione che resteremo in una realtà stabile ancora a lungo quello che lei crede scusi se le chiedo più esplicemente lei crede che sta arrivando una nuova stagione infernale che 300 sia il minimo e possa peggiorare intanto mi pare come di ricordare che è 350 a 360 ho l'impressione che in questo momento molto dipenda dalla Spagna e da quello che farà la Spagna se chiederà o non chiederà gli aiuti se chiede gli aiuti può essere che qualcuno abbia affidamento sulla Banca Centrale Europea se non chiede gli aiuti non credono più al meccanismo e allora succede tornando a noi in una situazione come questa il canale di ecco vede il grafico del quella è la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio io sono io ho trovato nel facciamolo vedere Vittorio che voleva commentare il professore vede io ho trovato nel professor Monti il mio migliore alleato se lei vede nei tre anni passati arrivando fino a quel maledetto giugno lo spread italiano era piatto anzi molto più basso di quanto si veda andando indietro era 113 di media per tre anni poi si rompe qualcosa mi permetto di dire non per mia iniziativa e arriviamo nel caos che c'è adesso il caos non è solo italiano è mezzo saltato il sistema bancario europeo se no la BCE non metteva un trilione nel sistema bancario mica l'ha fatto per aiutare le banche o le imprese le banche italiane l'ha fatto per aiutare le banche europee torno al punto il canale di trasmissione dell'epidemia dell'infezione sull'Italia e sul debito pubblico in mani estere attraverso gli spread non è necessario uscire naturalmente non è necessario possibile uscire dal mercato ma questo è uno strano paese che importa debito pubblico diciamo il 40% del nostro debito in mani straniere ma esporta capitali e questa è come dire è la follia noi siamo un paese che si indebita sull'estero ma che presta all'estero una quota enorme del suo risparmio non è necessario ridurre tutto quello che è mani estere ma se ci fosse una politica che dà più fiducia sul debito per esempio i titoli italiani devono tornare a essere esenti da ogni imposta presente e futura per dare un'idea di sicurezza di stabilità le gestioni bancarie vengono pagate in base alla massa gestita falle un po' pagare le commissioni a carico dei cittadini le piace la Tobin Tax Tremonti? non sulla massa gestita ma sul risultato vede che tutti si rimettono a comprare i titoli le piace questa Tobin Tax che stanno studiando in Europa e che Monti pare guardi come ho cercato di dire tante volte in Europa se tu vedi una rapina non è che la tassi metti in galera chi la sta facendo cioè tassare la massa dei derivati significa legittimarla a parte che la tassa la gireranno sui clienti sui consumatori non so dove ma non è un modo i derivati non vanno tassati vanno vietati io ho sempre cercato di spiegarlo ha detto Tremonti non è un liberale è un socialista lo considera un insulto o una constatazione telegrafico perché stiamo andando in pubblicità ma guardi quella socialista è una parte enorme della storia dell'Europa ancora adesso molti governi stanno tornando a essere socialisti io ho letto gli atti dei congressi in Inghilterra gli atti di preparazione della Germania la Francia ecco non credo che sia francamente non credo che sia un insulto e fa parte anche della cultura del Novecento come se fossero ancora in piedi la destra e la sinistra le grandi tradizioni politiche in Europa sono quelle l'obiettivo che dovremmo avere è metterle insieme non dividerle un piccolo break pubblicitario e poi ci dividiamo con Tremonti del debbio ha avuto una risposta per noi liberisti socialista ci viene male però noi ci dobbiamo fermare per un break pubblicitario ci sono tante altre cose con cui ma non so quanto tempo ma tra pochissimo oggi è successo di tutto rieccoci in onda un pomeriggio pieno di notizie anche politiche ma chiudiamo la fase di analisi della fase e soprattutto dei provvedimenti finanziari del governo di che cosa bisogna fare per affrontare la crisi io vorrei chiedere al professor Tremonti un altro parere su una persona molto distante da lui Susanna Camusso segretaria della CGL ha detto è inutile che ci giriamo intorno se vogliamo salvare quel po' di industria che è rimasto in Italia metallurgico siderurgico auto bisogna avere il coraggio di tornare a pensare a un intervento pubblico è una bestemmia per lei o in alcuni casi è un provvedimento che può servire intanto io non condivido la linea politica e sindacale del segretario Camusso e non per caso ho detto politica e sindacale mettendo prima il politico e poi il sindacale non la condivido cioè vuol dire che la Camusso sta facendo politica a me non pare che la politica della CGL in questo periodo o anche prima io ricordo anni di concordia con altri del sindacato e per tre anni non abbiamo avuto un giorno di sciopero generale abbiamo garantito i diritti la sanità le pensioni e questo detto questo fuori dalle ideologie fuori dalla Camusso se uno va a vedere come è fatta l'economia tedesca vede che è fatta un pilastro enorme dell'economia tedesca è pubblico è la famosa banca KFW Credit for Wirtschaft che finanzia l'economia tedesca tutto l'export tedesco è garantito dalla KFW a sua volta garantita dallo Stato è una mega cassa depositi e prestiti se uno va in Germania e lei vuole fare la CPE una cassa depositi e prestiti nuova italiana la cassa depositi e prestiti italiana quando ho cominciato a fare il ministro era una divisione del tesoro o qualcosa di simile è diventata una figura importante della nostra economia durante la crisi è stata la terza banca italiana come soldi alle piccole e medie imprese abbiamo fatto due fondi strategici per conservare l'industria in Italia e evitare che ci fosse zampata via la SAC è stata potenziata io credo che dobbiamo fare esattamente come in Germania usare la base della cassa depositi della SAC per unirle raddoppiarle triplicarle fare quel gigante pubblico che è in Germania se posso aggiungere a proposito di come dire di porro mercatista se uno va a vedere come sono fatte le banche e le industrie in Germania vede che non si capisce dove comincia la banca e comincia l'industria dove finisce l'industria e comincia la banca perché i consigli di amministrazione sono incrociati e ciò che è pubblico e ciò che è privato non corrisponde allo schema diciamo anglosassone puro è molto molto diverso ecco io penso che l'economia più simile alla nostra abbiamo la seconda manifattura d'Europa e dobbiamo conservarla sia un po' quello tedesco se i tedeschi hanno quello strumento facciamolo anche noi in questa fase in cui mancano i soldi una forma di intervento alla tedesca è fondamentale senta un po' di politica però vogliamo un po' di ultima cosa un'altra cosa che secondo me è molto importante nel programma del movimento 3L www.listalavorolibertà.it ci sono molte proposte che vanno dai referendum alla medicina alla ricerca sull'economia una cosa in cui credo molto i contratti di lavoro fuori dalle discussioni passate gli errori e gli sbagli della Fornero noi abbiamo i contratti di lavoro fatti per dimensione diciamo verticale dentro il metalmeccanico il commercio abbiamo le imprese tutte uguali indifferentemente che sono grandi o piccole perché non facciamo il contratto della piccola e della media impresa a prescindere dal settore dove stanno questo è conforme all'economia italiana e sbloccherebbe bene il lavoro in Italia però dobbiamo dire una cosa perché Tremonti ha dato una definizione della reforma sull'articolo 18 che mi ha dato molto da pensare in un'intervista a Repubblica ha detto che è una cosa metà scatoloni americani cioè il massimo del liberismo non garantito e metà Unione Sovietica è intrigante ma ci spiega perché ha dato questa bacchettata alla Fornero così perfido la bacchettata alla Fornero mi pare che la diano un po' tutti la metta giù così se il lavoro che tu immagini io sono a favore del posto fisso quando ho detto prima della Fornero che era a favore del posto fisso però io sono a favore del posto fisso mi sono anche beccato enormi polemiche negli anni passati sui giornali però il posto fisso se è possibile se non è possibile in questo momento il posto fisso ce l'hanno i cinesi finché gli va bene a loro poi chi lo sa anche per loro allora impedire ai giovani di avere i contratti a tempo determinato perché la riforma Fornero li sbatte tutti a casa di nuovo è un gravissimo errore perché li sbatte a casa in sintesi perché lo spiega l'ideale è il posto di lavoro fisso se il datore di lavoro in crisi non ti trasforma il posto tra virgolette determinato in posto fisso tu vai a casa perché non puoi tenerlo sei costretto a mandarlo a casa e appena partita da luglio vedrà quanti giovani quante persone in tantissimi settori verranno mandati a casa ope legis per questa roba della riforma Fornero dicono flessibilità in entrata secondo me è flessibilità in uscita cioè ti mandano a casa tipo gli esodati che però almeno quelli in prospettiva hanno una speranza questi qua non hanno più niente professore ma nel suo movimento politico non sarà un movimento lideristico immagino non sarà basato soltanto sulla sua persona avete già aperto dei contatti ci sono delle personalità da chi è composto esattamente intanto da chi non è composto l'obiettivo è che non ci siano come dire persone che hanno un certo passato l'ideale è avere tanti giovani sul sito abbiamo un crescendo di contatti l'idea è di andare in giro per l'Italia a presentare qual è il passato che non le piace Tremonti? Cestini compreso ma un po' lo conosce anche lei insomma vediamo un po' cioè gente come me mercatista no 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 guardi assolutamente no se fosse possibile avere un rapporto costruttivo con persone come lei e che capiscono che il mercato è una cosa e il mercatismo è un'altra cosa insomma quello che ci ha fatto uscire è l'idea che il mercato fa tutto che prende anche il posto delle comunità del volontariato cosa avrebbe fatto tutto insieme cosa avrebbe fatto se si fosse trovato non si è mai trovato ma deve dare un giudizio politico ormai ovviamente nelle condizioni di Formigoni lei avrebbe gli consiglierebbe di dimettersi di rimanere lì lei conosce bene la Lombardia e soprattutto quel migliore anche perché Formigoni oggi ha detto non so se l'ha sentito sono in campo non getto la spugna mi batterò come un leone fa bene o male? ma guardi io non ho mai fatto valutazioni personali la coscienza delle persone è assolutamente una cosa delle persone l'altra sera richiesto in tempo reale ho detto prima si vota meglio è e mi sembra che il voto sia la migliore igiene io con le regioni ho sempre avuto un rapporto molto negativo molto difficile perché li vedevo come centri di spesa non responsabili un conto è il federalismo dove tu spendi ma prendi i soldi dei cittadini che ti controllano un conto è spendere a piedi di vista io in questi anni ho sempre avuto un rapporto negativo con le regioni per questo anche un rapporto difficile una volta ho sbagliato parola ma ho detto che i governatori erano dei cialtroni e tolto l'errore sulla parola si è chiesto perché io ero contro il sistema dell'Expo per esempio che mi sembrava un po' come dire una repubblica a sé la mia impressione è che si debba andare a votare il primo è meglio e dappertutto anche in Italia ma se il sistema è comunque così congegnato professore non cambia il voto perché comunque al posto di formigoni arriverebbe un presidente della regione indipendentemente dal colore politico che continuerebbe a spendere a piedi di vista ma infatti io nel libro del federalismo fiscale che era la base delle riforme poi non si è fatto più niente perché è caduto il governo io credo che come in tutta Europa servono i governi locali ma ci devono anche essere le tasse e quindi le responsabilità locali è demagogico chiedere oggi l'abolizione dell'Imu sulla prima casa 3,3 miliardi di incasso che si prevede faccia nel 2012 nel 2013 prima casa le chiedo nel 2008 fu tolta l'ICI sulla prima casa non di lusso e fu compensato l'ira euro su euro con un incremento delle imposte sulle assicurazioni sulle banche e sui petrolieri e fu assolutamente coperto adesso credo che togliere l'Imu sulla prima casa non di lusso sia importante anche per ragioni psicologiche per trasmettere un messaggio positivo avrebbe fatto quello piuttosto che ridurre un punto di eliquota dell'IRPEF cosa che ha fatto il governo due giorni fa tra le due operazioni cosa avrebbe fatto? assolutamente sì togliere l'Imu voleva dire alla fine sulla prima casa dare come dire un segno positivo a un settore quello dell'edilizia che è fondamentale che è stato massacrato ma se vuole gli dico cosa penso dell'ultima manovra ecco ce lo dica allora quest'ultima manovra è ancora in corso di stampa ma a occhio è una manovra che tra entrate e uscite dare e avere tasse e tagli Cuba 30 miliardi 13 miliardi di tagli soprattutto sulla sanità tenga conto che la sanità italiana costa meno della media europea poi ci sono la riduzione dell'IRPEF l'aumento per un pari importo diciamo 6 miliardi di meno IRPEF 6 miliardi di più IVA e 5 o 6 miliardi di altre tasse quindi il bilancio complessivo è l'ennesimo aumento delle tasse sull'IVA cosa viene fuori che la pagano tutti che IVA vuol dire benzina riscaldamento elettricità bolletta e luce sull'IRPEF il primo errore diciamo che mi stupisce che questo governo tecnico faccia tutti questi errori tecnici e sull'IRPEF sono fuori dalla riduzione 10 milioni di italiani i più poveri che stanno nella cosiddetta parte degli incapienti sono così poco importanti che non hanno nessuno sgravio ma hanno l'aggravio dell'IVA quindi l'IVA la pagano tutti la riduzione dell'IRPEF riguarda tutti tranne i 10 milioni più poveri e non mi sembra la cosa più giusta non solo tu dici beh mi riducono l'IRPEF aumentano i bolli i bolli giudiziari i bolli bancari il TFR c'è una quantità le deduzioni le detrazioni se guarda nel decreto aumenta la benzina cioè viene messo a regime il provvedimento straordinario per la protezione dell'anno scorso quindi il bilancio finale sommando tutte queste voci che vanno da un settore all'altro l'economia scusi l'agricoltura e tutto questo quanto arriviamo? ma torno a dire meno 6 di IRPEF distribuiti male perché lascia fuori chi ha più bisogno più 6 di IVA che diventerà nel 2014 il doppio perché la riduzione è solo adesso e poi 5 o 6 miliardi di altre tasse dalle auto aziendali quindi più 6 miliardi di tasse più 6 miliardi di tasse ma lei sembra logico che se uno è un separato e deve pagare gli alimenti alla moglie non può dedurre tutto ciò che deve gli alimenti solo una parte in modo che paga le tasse su quello che è un no reddito motivo per il quale Telese e Dio non vogliamo separarci va bene dobbiamo chiudere la ringraziamo per questo intervento torni presto chiudiamo regalandovi una favola di un narratore strano un narratore trale Ascanio Celestini racconta il mercato saluti a professor Tremonti e noi ci vediamo sabato prossimo grazie a voi diciamo che io sono un imprenditore io ho un'azienda che produce chiodi ho un operaio che ogni giorno si mette lì col martello sull'incudine e mi produce un chiodo alla sera io ho un chiodo prodotto che se lo metto sul mercato mi vale per se dire un soldo ecco per non parlare proprio dei dollari dei euro eccetera eccetera lo stato è contento è contento perché c'è un disoccupato in meno e un lavoratore in più che peraltro paga anche le tasse ma io non sono lo stato io sono un imprenditore capitalista io se produco un chiodo già sogno di produrne per esempio 10 dunque perciò prendo 10 operai li metto a lavorare li lavorano per l'intera giornata martello sull'incudine mi portano 10 chiodi lo stato è contento lo stato è contento perché c'ha 10 disoccupati in meno e 10 lavoratori in più cittadini che poi pagano le tasse io sono contento perché 10 chiodi significa che messi sul mercato mi valgono 10 soldi però non mi basta perché la mia ideologia è il capitalismo per me un'azienda deve sempre crescere perciò io penso già che potrei poter 100 chiodi 1000 chiodi un milione un miliardo 100 miliardi di chiodi che oggettivamente è possibile perché 100 miliardi di esseri umani sul pianeta terra non ci stanno diciamo che la popolazione mondiale è un freno all'economia questo è oggettivo però se io non ho più dei 6-7 miliardi di persone diciamo al massimo ne posso far lavorare 5 di miliardi perché poi ci sono i ragazzini i disabili i vecchi quelli che non gli piace lavorare insomma perciò facciamo questo esempio io prendo 5 miliardi di lavoratori e questi alla fine della giornata mi producono 5 miliardi di chiodi che non sono quei 100 miliardi che io vorrei produrre certo siamo ancora un po' lontani però 5 miliardi di chiodi già sono molti di più rispetto a un chiodo o a 10 chiodi che peraltro adesso non per i chiodi che non me ne frega niente però 5 miliardi di chiodi messi sul mercato poi valgono 5 miliardi di soldi che è una cifra straordinaria non 100 miliardi ma 5 miliardi già per passo avanti a quel punto io che faccio? io mica sono contento io sono lo Stato io sono un imprenditore sono un capitalista io vado da questo operaio e gli dico caro operaio se tu puoi produrre un chiodo ne puoi produrre pure due che è un passo piccolo piccolo un passetto che però per la mia azienda è un passo enorme straordinario perché se tu produci due chiodi al posto di uno i 5 miliardi di chiodi prodotti diventano 10 miliardi di chiodi prodotti in una sola giornata che significa messi sul mercato 10 miliardi di soldi adesso io che faccio? io investo la tecnologia per esempio che se no ti do un martello più leggero per dire ti do un'incudine ergonomica accorcio la corsa del martello verso l'incudine e a quel punto con la tecnologia i passi sono ancora più lunghi sono passi da gigante a quel punto io sono sicuro sono certo perché io confido nella forza nella bravuta nelle capacità nella professionalità dei miei operai che un operaio così come è passato da un chiodo a due chiodi può facilmente attraverso la tecnologia passare da due chiodi a 10 chiodi e 10 chiodi prodotti da 5 miliardi di operai significa 50 miliardi di chiodi che poi significherebbero 50 miliardi di soldi che è una cifra rilevante lontana ancora da quei 100 miliardi di cui parlavo prima però passetto passetto ci stiamo avvicinando adesso lo rego che so un imprenditore capitalista che faccio io vado a parlare con il governo gli dico taglia sta norma cambia sta normativa metti start a regola taglia sto pezzo di legge che ne so io sto articolo poi vado al sindacato gli dico sindacato chiudi un occhio magari pure tutte e due dammi una mano magari pure tutte e due ma una giornata è di 24 ore perché l'operaio deve lavorare soltanto 8 ore facciamo a mezzi alla romana 12 ore te ne stai dovete fare 12 ore viene a lavorare per me poi perché quando uno è malato se ne deve stare a casa la malattia è già tanto triste te ne stai solo a casa ti deprimi via a lavorare stai in mezzo ai compagni le donne incinte gravide ma perché devono stare a casa ma non c'è parità tra maschi e femmine dico ma che stiamo dicendo al bambino che vuoi più bene mamma o papà ma se siamo uguali se mi muovi e stai incinta devi venire a lavorare insieme a me e io sono sicuro che togliendo e tagliando lacce e lacciuoli vedrai che così come un operaio è riuscito a passare da due chiodi prodotti al giorno a dieci chiodi può tranquillamente tranquillamente passare da dieci a venti e venti chiodi prodotti ogni giorno da cinque miliardi di operai beh ci fanno raggiungere quella insperata cifra di cento miliardi di chiodi ovviamente qualcuno vi vorrebbe chiedere ma cento miliardi di chiodi non significa che so cento miliardi di soldi fino a quando non li metti sul mercato certo ma qui il passo è semplice semplice perché io vado all'operaio e gli dico operaio se vuoi produrre devi pure consumare perciò caro operaio se sei in grado di produrre venti chiodi al giorno quei venti chiodi te li puoi pure comprare ma se il turbo capitalismo il capitalismo di nuova generazione significa cinque miliardi di operai che producono cento miliardi di chiodi e poi se li comprano io vorrei chiedere ma noi con cento miliardi di chiodi ma che ce fiamo?